Ha suscitato un vero e proprio putiferio la decisione del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli di rendere obbligatorie le mascherine fuori dalla propria abitazione, una decisione che va ad inasprire quanto già deciso a livello nazionale e regionale. Tanti una valanga ci verrebbe da dire i commenti negativi nella nostra pagina facebook da chi semplicemente si chiede il motivo a chi invece cita articoli di giornali e scienziati. Il nostro ruolo non è certo quello di stabilire chi ha ragione ma semplicemente di raccontare i fatti. Nella nostra piccola inchiesta, microfono alla mano, non abbiamo trovato nessuno sinceramente che fosse contrario. Una decisione insomma che divide sulla quale si è espresso pubblicamente sui social anche Sergio Pistoi, aretino divulgatore scientifico, una laurea in scienze biologiche dell'università di Torino e un dottorato in biologia molecolare. Questo un estratto di una lunga intervista realizzata sull'aspetto scientifico della questione per la pagina facebook questioni rassegnati stampa. Dal punto di vista scientifico non c'è nessuna evidenza chiara che è dimostrata quindi con gli studi scientifici eccetera che l'uso, cominciano ad esserci adesso, ma l'uso delle mascherine non è che sono tutti d'accordo sul fatto che la mascherina sia una cosa così fondamentale e necessaria. Mentre sul distanziamento sono tutti d'accordo e mentre sul lavaggio delle mani sono tutti super d'accordo, non c'è nessun dubbio su questa roba, la mascherina è una questione di logica. Cioè se voi andate a cercare gli studi scientifici non è che trovate miriade di studi che vi dicono dove la gente ha messo la mascherina, i contagi si sono diminuiti eccetera. Un po' per il motivo che dicevi anche te, che in realtà le occasioni all'aperto di contagio, se guardate ci sono gli studi pubblicati sul sito, sull'Istituto Superiore della Sanità, stanno cominciando a pubblicare i dati sui luoghi di contagio. I luoghi di contagio principali sono famiglia, ospedale, scuola no, scuola no perché sono chiuse, altrimenti avremo anche scuola. Cioè tutti i luoghi dove la gente passa molto tempo vicino all'una dall'altra perché nel contagio quello che conta è la carica virale, quindi la quantità di particelle virali che si ricevono e il tempo di esposizione perché c'è un minimo di particelle virali, qualcuno dice, qualche esperto dice mille unità di virus, però c'è un minimo, una quantità critica di particelle virali che tu devi ricevere per poterti contagiare. Se non hai il tempo fisico di ricevere questo numero di particelle non ti contagi. Però la mascherina serve, lo capiamo anche a logica, perché se sono in un posto frequentato al chiuso e magari non è facilissimo garantire la distanza personale, non è un grave, voglio dire, facciamolo in un periodo come questo, mettiamoci una cosa in faccia e evitiamo di rischiare di sputtazzarci a vicenda. Purtroppo poi succede che la gente si sente più sicura e da quando esiste la mascherina obbligatoria, prima a me non mi veniva addosso nessuno, adesso devo fare attenzione perché la gente ti parla a due centimetri. Ma questo è una conseguenza nota e ben descritta di questo tipo di dispositivo ed è anche un motivo per cui ad esempio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ad oggi non raccomanda l'uso delle mascherine mai, mentre altri organismi lo raccomandano. Ripeto, cari no mask in ascolto, non prendete questo pezzo di video e non usatelo per dire che Sergio Pistori ha detto che non bisogna mettere mascherine, no, io dico che bisogna metterle ma con intelligenza.